Siamo a bordo dello stupendo A1 a San Germani del 65, progettato da Sparman e Stevens, costruito da San Germani, con l'armatore, l'armatrice e l'altro armatore. Sandro Cepollina, Saverio Cepollina e Sofia. Come è andata la regalata oggi? Sicuramente bene, per le nostre possibilità è andata abbastanza bene. Ci è anche un vento simpatico, sono seconda parte del tracciato, quindi ci siamo anche divertiti. Chi dei due era al timone? Lui. Lui, per cui avete vinto comunque, anche se non c'era lei. È andata bene. La classe Jor è una classe che ovviamente ha fatto la sua storia negli anni Ottanta, però imbarcazioni del genere che hanno quelle determinate caratteristiche di disegno e che rientrano pertanto nella stazza sicuramente sono un simbolo importantissimo. Noi vediamo i San Germani che sono in era Duni, però con una giustificazione Jor all'interno di un campo di regata è sicuramente un tornare indietro nella storia, anche se il concetto di questa barca penso che sia più una barca alla crociera. No, no, questa qua è una barca che è stata progettata, costruita per regattare. Ha tutti i pesi nel posto giusto, ha tutti i serbatoi molto bassi, quindi era stata anche la cabina di prua per i marinai. È stata una barca creata in allora, è stata costruita per fare delle regate. Penso, adesso io non conosco molto bene tutta la sua storia, se non quella più recente, penso che abbia partecipato anche a qualche giraglia nel suo passato, quindi è una barca che era stata proprio progettata per regattare. Il disegno dello scafo di Spartan & Stevens, quindi ha avuto anche un momento buono, perché su un disegno poi si non trovi anche fatto lo suon, 67 credo, quindi è una barca che dà molta significazione. Ha vinto parecchie regate d'epoca della sua categoria, mi sembra 5 volte la Newark, ha sempre partecipato ai raduni d'Imperia, una barca che portata in maniera giusta, con il pipaggio giusto può andare da ancora molto tempo. Benissimo, vi ringraziamo e speriamo di vedervi, avete dei programmi per i prossimi raduni? Beh sì, facciamo senza altro le vene d'Imperia, poi il lavoro ci impedisce di partecipare a altri raduni, però vedremo in futuro. A Imperia ci rivedremo, molto bene. Grazie mille dell'ospitalità e della vostra collaborazione. Grazie mille. Grazie mille.